Il nostro gruppo fondamentalmente è nella merda, vi spiego perché, perché non suoniamo da un po' e tra l'altro questi qui sono gli incassi che abbiamo ricevuto dal 2004 fino ad oggi, quindi anni e anni di sudore e fatica per 30 euro. Spesi in birra. E aspettate, ben... Va bene, madonna, stronza. E tipo delle monete. Per cui noi abbiamo bisogno di soldi per poter girare l'Europa e comprarci il crack. E visto che suonando il crack non ce lo possiamo permettere, l'Europa molto meno. Boh, se volete mandarci dei soldi... E la post... E il conto corrente? La post...